Nella sera ci sarà la presentazione del nuovo disco con un dibattito sociale, un disco che ha una forte impronta sul sociale e che quindi l'artista ha deciso di fare delle tappe per tutta l'Italia per poterlo presentare lui direttamente spiegando pure, entrando proprio nel merito delle sue canzoni. Quindi questo appuntamento siamo riusciti a portarlo pure a Gela e quindi avremo il piacere che il giorno 24, alle ore 21, al Teatro Esfilo ci darà l'opportunità di poter dialogare, di poter parlare direttamente con Povia mentre spiegherà il suo nuovo album e spiegando qual è il messaggio che vuole inviare. L'ingresso è libero però fino ad esaurimento dei posti perché giustamente c'è un problema anche di capienza quindi tutti invitati a partecipare però cerchiamo di essere puntuali perché chi arriverà tardi c'è il rischio che non potrà entrare.